Grazie a tutti. Che è chi sentiamo anche a partire dalla nostra esperienza? Se abbiamo delle domande benvenga anche a Suar Gabriella, a Suar Carmen, però so che qui ci sono persone che hanno anche esperienza in questo ambito. Il silenzio è una risposta. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Io mi chiedo dove sono le agenzie educativi, di chiesa, noi siamo tanti qua, mi sembra religiosi, siamo gente di chiesa, delle nostre parrocchie, vengono i clienti, non vengono dell'Australia, delle nostre scuole, dei nostri collegi. Penso che è urgentissima una seria formazione in questo senso, perché certamente non è loro che si educano, l'offerta viene perché precede la domanda. Io mi chiedevo che cosa pensavate di quest'ultima decisione, diciamo, da parte dell'Italia, di bloccare l'arrivo dalla Libia, perché parlava prima su Rosalia di queste ragazze che sono vittime proprio sul territorio libico, magari vengono dalla Nigeria, da altri paesi dell'Africa subsahariana. Quindi mi fa una pena terribile pensare che possano rimanere praticamente prigioniere là, perché se non riescono ad attraversare il mare, per loro è un po' una trappola. E quindi questa cosa, insomma, che cosa pensate? Grazie a questi contributi, io non voglio togliere la parola a nessuno, solo credo che c'è anche un limite, no? Che possiamo, anche perché vorrei lasciare veramente cinque minuti alle nostre anche amiche che ci possono dare un... aprire un'altra finestra verso il futuro. Vorrei lasciare un minuto, guardatemi profondamente, one minute, no more. Solo per restituire qualcosa, qualche parola chiave che potete restituire alle persone. Ciò che potete restituire un minuto, un minuto per ogni persona. Thank you. Ok, sui traffizi, non ho parlato, ma io sono molto felice che in EU, finalmente, c'è anche un grande spazio per finanziarie. And I hope that this would bring... And this was known as a method of investigation long time. But I agree that we always ask, you know, who is interested and who is behind, yeah. e credo che c'è alcuna complicità a diversi livelli, ma c'è un forte push per l'investigazione finanziaria e una migliore cooperazione tra le legge e l'inforzamento, e spero che questo farà davvero una differenza. Grazie. Grazie. Non è importante avere davanti la soluzione di tutto il problema, perché è un problema di grande portata. Ciò che conta è accendere piccole luci nella vita delle persone che portano sulla propria pelle i segni di una violenza subita e di una marginalità che non hanno scelto, costretti a vivere ai margini senza che lo abbiano scelto, essere compagni di viaggio, per il tratto che il buon Dio ce li mette accanto. Accogliamo questa presenza senza paura. Grazie. In conclusione, let's go after traffickers. What I want to say is that corruption and trafficking, it's a match made in heaven. And we don't have corruption only in poor countries, like the origin countries. Mind you, at the European level and in every country, you have corruption, and corruption and trafficking, it's a match made in heaven. Look at the punishments, and this is the last word I have. Nordic countries have max of four years in prison for trafficker. If you send a guy to jail for trafficking drugs, 20 years in prison, but for trafficking women, just four years in prison. In Belgium, they have 400 euro fine. They start with 400 euro fine and they go up to two and a half. We are lobbying with these governments to increase the penalties for traffickers and they refuse. I wonder why. Grazie di nuovo a tutte e tre, grazie della pazienza. No, non mi chiediamo di rimanere lì. Vorrei lasciare la parola un momento a Sor Gabriella perché voleva dare un feedback alla ultima domanda, soprattutto sulla posizione dell'Italia. È una notizia di questi giorni, grazie per la domanda, effettivamente mi preoccupa, condivido la stessa preoccupazione. Bloccare le fontiere di fatto vuol dire bloccare migliaia di persone che stanno sendo sfruttate in modo veramente crudele. Abbiamo sentito prima da sua Rosalia che cosa sta succedendo e come arrivano le persone che stanno passando dalla Libia. Il problema della migrazione, del controllo dei flussi migratori è un problema veramente serio, complesso, che non può essere risolto solamente chiudendo le frontiere a scapito dei diritti umani. Quindi dobbiamo veramente, come chiama anche Papa Francesco, e come stiamo lavorando, crescere e sensibilizzare la nostra società per non far pagare ancora una volta a chi sta soffrendo il prezzo più alto. Lo slogan di questa giornata che abbiamo sempre usato in questi tre anni è stato accendi una candela contro la tratta. e quindi quest'anno abbiamo voluto simbolicamente realizzarle in modo veramente molto semplice per poterle dare alle persone che ci hanno aiutato in questo cammino. E quindi simbolicamente l'invito è per ciascuno e ciascuna di noi. Uscire di qui per accendere una luce contro la tratta. per qualsiasi cosa noi facciamo. Penso che simbolicamente la persona a cui lo dobbiamo dare tutti quanti per aver organizzato anche tutto questo è Suor Gabriella. Lei le aveva già viste ma non fa niente. Bene, grazie. Adesso io invito le nostre tre ultime ma non ultime amiche che sono Chantal Gotts corretto il mio modo? Gotts? I'm sorry. Lei è la responsabile del progetto non so se definirlo progetto associazione iniziativa event please voices of faith sicuramente qualcuno di voi la conosce perché ogni 8 marzo organizzano l'evento in Vaticano quindi chiediamo a Chantal you can stay there in pochissimi minuti dopo che abbiamo presentato anche le altre di portarci verso il futuro poi abbiamo Martina Lib Lib Pessima vi chiedo scusa che è la responsabile delle politiche di Caritas Internationalis membro del comitato della giornata mondiale con una grande esperienza anche a lei chiediamo di portarci verso aprire una finestra verso il futuro e uscire da qui con speranza se no non possiamo fare il brindisi prego e poi abbiamo Maria Giovanna Ruggeri che è presidente dell'Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche un'organizzazione che ha una sua storia un suo radicamento a livello mondiale a livello locale quindi anche lei sempre come donne ad altre donne altre religiose religiosi ci possono portare verso il futuro bene ringrazio naturalmente voi tutte che siete venuti a questo evento e io sono stato già introdotto la mia organizzazione che rappresento che rappresenta circa 10 milioni di donne cattoliche in tutto il mondo noi una decina di anni fa abbiamo iniziato con sore Eugenia sendo io italiana conoscevo lei quindi abbiamo cominciato a sensibilizzare su questo tema e prima dicevo nell'orecchio di Martina che la prima conferenza che abbiamo fatto in Europa su questo tema l'abbiamo fatta in una diocese non dico dove così non faccio troppo gossip e quando il vescovo durante l'omelia diciamo alla messa abbiamo invitato il vescovo nel posto dove stavamo qui in Italia e lui disse per fortuna soltanto in italiano così le straniere non capirono e disse che in fondo se esiste questo problema è perché le donne vanno con le minigonne e voilà e dunque questo è il risultato io e sore Eugenia io ci guardavo in orridite però va bene va bene così allora noi siamo stati chiamati a portare voci di donne voci di speranza ecco in questo poi da come dicevo tra circa dieci anni parliamo di questi argomenti cerchiamo di sensibilizzare su questi argomenti perché qui ci sono tante suore vedo anche tanti religiosi tanti sacerdoti purtroppo però le nostre comunità ecclesiali spesso fanno un po' di fatica a seguire questi temi li vedono sempre come dei temi lontani che non ci appartengono e non ci accorgiamo che magari sono le nostre ragazze le nostre figliole o la nostra vicina di casa che è vittima o che subisce queste cose quindi in questo mandato che io sto vivendo in questo momento come presidente ci siamo voluti dare questo slogan donne dell'umof e donne di speranza quindi ecco la speranza su questo tema su che cosa stiamo lavorando stiamo lavorando sul discorso dell'awareness una volta mi scusero i parola in italiano della consapevolezza grazie della consapevolezza cioè di prendere coscienza di questo tema che ci interpella tutte tutti e tutte non soltanto gli addetti ai lavori ma siamo tutti perché ecco appunto i clienti ho sempre l'esperienza di Sule Eugenia una volta in televisione lei disse che molti uomini che frequentano le nostre comunità parrocchiali evidentemente sono clienti di queste ragazze visto che c'è uno su tre degli uomini italiani che diciamo che usa usa e getta queste ragazze questo sacerdote si scandalizzò per l'ennesima volta però è un dato di fatto quindi prendere consapevolezza già di questo capire che questo problema ci riguarda tutti quindi il discorso della prevenzione quindi le nostre organizzazioni stiamo lavorando su questo sul sensibilizzare anche se ci sono poi delle realtà dove si è passato anche a livello dell'accoglienza e del recupero anche della riabilitazione che è una cosa molto delicata molto difficile come abbiamo già ascoltato quindi non mi ripeto ma certamente c'è questo aspetto c'è questo aspetto del voler lavorare del voler sensibilizzare e del voler del voler appunto essere essere seminatrici di speranza facendo recuperare il discorso della dignità della persona e penso a tante nostre organizzazioni che lavorano in Africa penso nel Messico dove per esempio hanno messo su queste comunidades seguras che sono proprio sul discorso delle adolescenti sempre insieme sempre in collaborazione questo è un altro aspetto che vorrei vorrei sottolineare non soltanto al nostro interno che siamo già organizzazioni che viviamo insieme ma assieme a Talita Kuma assieme a Coatnet noi cerchiamo questi collegamenti perché non vogliamo essere non pensiamo di avere come dire la capacità di lavorare da sole ma anzi cerchiamo l'esperienza la competenza degli altri perché crediamo appunto che mettersi insieme rende più efficace anche il servizio che si fa alle persone un minuto ecco sì adesso veramente cerco l'ultima cosa che abbiamo fatto in ordine di tempo non sto qui a elencarvi tutte le cose insomma che ciascuno di noi fa cercando di farlo al meglio e nel Consiglio di Europa che si è tenuto due settimane fa se non sbaglio a Strasburgo abbiamo proposto per esempio di mettere il tema della tratta come un tema su cui il Consiglio di Europa deve riflettere perché sapete il Consiglio di Europa è uno di quei luoghi che non è decisionale però in Europa diciamo da alcune mainstreaming alcune linee di fondo della riflessione che poi un po' si riverberano negli altri continenti ecco io noi siamo veramente ci sentiamo interpellati dalla parola del Santo Padre che mi ricordo fin dal suo primo dal suo primo Angelus ricordò questa cosa della tratta insomma fece emergere questo problema era la prima volta che sentivamo anche da parte del Magistero una voce forte su questo aspetto e noi ci siamo sentiti sempre incoraggiati a continuare su questo e su questo vorremmo appunto continuare per spezzare per riprendere la parola di Paolo Francesco quella globalizzazione dell'indifferenza e costruire invece una globalizzazione della solidarietà grazie buongiorno a tutti a tutte grazie di darmi l'opportunità di parlare qui e anche di stare con tante persone con le quali collaboriamo molto insieme che mi sembra una cosa molto importante non mi soffermerò ho portato delle immagini ma non mi soffermerò sulle immagini perché penso che oramai siamo entrati un po' già molto intensamente nella situazione delle persone però penso che ogni tanto è bene avere queste immagini davanti persone che hanno sofferto ma che sono persone che hanno anche un grande potenziale vuoi fare volevo e sembra che abbiamo tutti citato la stessa sorsa di statistiche che è il UNODC report del 2016 dove appunto si dice quale è la percentuale dei bambini fra le persone identificate come vittime identificate è molto importante cioè c'è la stima di quanto può essere il fenomeno queste sono le persone identificate e volevo anche mettere a confronto che sembra che a livello non mondiale ma diciamo in 106 paesi ci sono state 63.251 vittime identificate a confronto di più o meno 5.700 condanne quindi si vede che anche lì c'è uno squilibrio molto importante e quindi tendo a dare ragione alla collega che ha parlato prima dobbiamo proprio anche guardare questo guardare il trafficante guardare anche sono contenta che la collega dell'IOM abbia menzionato anche il tema delle finanze sappiamo che è un business che crea un enorme come si dice beneficio per così dire economico ma come fa se non ci è anche forse la complicità di istituti finanziari per esempio quindi secondo me a parte diciamo la cura della persona dobbiamo anche guardare guardare questo la buona notizia comunque però è che c'è anche in questa statistic dell'UNODC che più a lungo un paese ha una legislazione contro la tratta più sono le condanne quindi più esperienza c'è più si utilizza anche ovviamente bisogna implementare la legislazione più aumentano le condanne anche se sono come vedete nella statistica a destra sono poche ancora molto poche però vanno in aumento e secondo me sono due cose fondamentali che già sono state dette cioè una cosa è veramente badare all'implementazione della legislazione esistente ma anche quello ne avevamo parlato già quasi dieci quindici anni fa quali sono le risorse che un governo investe nel combattere della tratta perché si può avere la legislazione più bella del mondo se non ci sono le risorse purtroppo la legislazione non serve quindi mi ricordo proprio in Romania una collega diceva noi andiamo a monitorare il budget che c'è per a disposizione per mettere in atto delle misure eccetera quindi mi sembra questo è un messaggio importante grazie voglio anche brevemente parlare della nostra rete Caritas Internazionalis è una rete che si chiama Organizzazioni Cristiane contro la tratta degli esseri umani sono 42 membri per lo più cattolici Caritas non solo anche qualche conferenza episcopale che si basa su organizzazioni più che altro in Europa Asia e America del Nord adesso abbiamo il primo membro anche in America Latina cosa che ci fa grande piacere e l'intenzione è proprio di fomentare un po' quello che è già stato detto formare le persone che lavorano scambiare avere uno scambio di esperienza connettersi e connettersi anche con altri e fare advocacy oppure identificare anche tematiche nuove la collega dell'IOM ha menzionato il tema della tratta durante situazioni di crisi è un tema che è poco guardato però penso che di più e di più dobbiamo guardarlo un'organizzazione Caritas ha fatto uno studio su questa tematica la tratta in situazioni di conflitto e di crisi infatti abbiamo anche molto collaborato con l'IOM su questo un'altra collega per esempio ci ha allertato sul tema del traffico degli organi a fini di pratiche di stregheria per esempio in Mozambico ci sono bambini ai quali vengono tolti gli organi perché si pensa che gli organi per esempio di albinos sono molto come si dice preziosi per pratiche di stregheria quindi è questo un po' il fine della rete e connettersi con altri abbiamo sentito Talita Kum Vukvo lavoriamo molto sulla tematica abbiamo fatto una conferenza in Nigeria si è parlato tanto della Nigeria sulla tratta ci provo abbiamo fatto insieme al Pontificio Consiglio per i migranti e i itineranti l'ex Pontificio Consiglio bisogna dire comunque molto attivo per la prima volta in Africa proprio per dire voi in Africa avete un problema che forse dentro l'Africa è più grande che quello che va fuori l'Africa dovete mettervi insieme e siamo riusciti anche a avere persone di altre organizzazioni cristiane ma anche un'organizzazione musulmana e tanti delle amiche che stanno qui facevano parte anche di questo di questa conferenza e mi ricordo che alla fine abbiamo detto dobbiamo cercare di fare quello che si chiama mainstreaming cioè qualche volta mi sembra che qualcuno l'ha anche detto sembra che siamo sempre gli stessi e ci parliamo a vicenda come possiamo riuscire a includere la tematica in altri campi penso per esempio al campo della salute come un campo molto importante si è parlato dell'educazione è molto ovvio quanti curricula ci sono nelle università per proprio fare che ci sia sempre più gente che conosca questo fenomeno quindi mi sembra che questa è una cosa molto importante il mainstreaming non possiamo essere solo noi specialisti ma dobbiamo educare anche altri che potrebbero entrare a confronto con questo problema poi credo molto e Maria Giovanna e io siamo stati alla stessa conferenza in questo approccio di comunità le comunità stesse devono diventare resilienti e mi ricordo anche di un altro progetto mi sembra che americano che ha lavorato proprio con una comunità dicendo come si può proteggere la comunità da questo non agenti che vengono da fuori che cosa possono imparare le comunità stesse per essere resilienti le risorse molto importante ho già detto il ricovero si è parlato della legge qui in Italia che permette questo percorso diciamo di ricovero che mi sembra molto importante e dare opportunità voglio solo soffermarmi sulla prossima slide molto brevemente perché si è parlato di diritti dei bambini questo è stato sono dei principi per guidare azioni per bambini o che riguardano bambini in mobilità o bambini che sono in un'altra forma come si dice affetti affetti dalla migrazione questi principi sono quasi come un checklist si vuol dire per dire sono protetti i diritti dei bambini questi principi li hanno costruiti varie organizzazioni internazionali e mi sembra che anche IOM ne era partecipe sono unbranded cioè si è detto non si vuole mettere il logo di questa o di questa organizzazione ma sono di tutti e mi sembra che sono di grande aiuto anche proprio per la protezione dei bambini vittime vittime della tratta sono vedete anche lì il link dove potete trovarli e possono veramente aiutare perché guardano l'insieme dei bambini in mobilità riguardo all'abuso riguardo alla libertà di movimento eccetera tutti i diritti che sono dentro la convenzione per i diritti dei bambini e in altre convenzioni quindi è una linea guida che mi sembra molto importante finisco qui grazie no comment grazie no no please ah finito pensavo che ti avessi cortato scusami no no finito ero proprio qui grazie benissimo grazie io sono veramente mi fanno fare questo ruolo orribile però qualcuno lo deve fare allora good afternoon if you're starving like me I'm going to be really quick now because I'm really hungry so very short thank you for presenting our initiative actually it started four years ago not even four years ago before the conclave of Pope Francis we didn't know that it's going to be Pope Francis but I was at a press conference and journalists were asking me from the secular press what are women doing in the church so I realized that we have to work more with journalists we have to put out what we are actually doing all the positive work so I came to this initiative it's called Voices of Faith and it brings the voices to the Vatican on International Women's Day so that's 8th of March and we always include and we always include some speakers of human trafficking so we had like from Argentina a nun fighting against selling organs we had from from Israel all those coming from Eritrea and this area human traffic people we're going to have one next year from Australia the people usually think there's no human traffic in Australia so she's going to speak about this the challenge is that we want to network among the women but also among men we want to be inclusiveness inclusive and what the biggest challenge is we want to change the courier the hierarchy so how can we do that we bring in testimonials like we heard some of them this morning we bring all in only stories so from all all the world this year it's going to be on peace and non-violence because we also realized that Pope Francis puts this year very much on non-violence like the new policy so this is going to be this year's theme and I just want to introduce you shortly with our new trailer so please if you go on the live streaming on the end of March and please join us for this initiative good train good train and I'll see you you in the next Grazie a tutti. 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 Allora, cosa vi chiediamo? Abbiamo sentito tante parole oggi. Vi chiediamo di costruire un po' la nostra rete della speranza. Cioè uscire da qui sentendoci tutte e tutti coinvolti, scrivendo qui una o due parole, non di più, nella lingua che volete, diciamo nelle lingue inglese, francese, spagnolo, italiano, portoghese, che noi possiamo maneggiare. Ecco, altre no, non siamo in grado, oppure fate la traduzione, vi chiediamo questo, poi ce lo consegnate all'uscita, ci trovate sempre le volontarie e lo consegnate a loro. Sì? Vi sentite? Sono state soddisfatte di chiudere così? Il cerchio di non recuperare il cerchio di non recuperare la parola? Continuiamo? Continuiamo ad accendere una luce, adesso arrivano i foglietti, Ghisela. Mentre distribuiamo i foglietti, continuiamo ad accendere una luce contro la tratta, è questo il messaggio con il quale noi vi vogliamo lasciare. Suor Gabriella adesso consegnerà anche alle nostre amiche la candela per accendere una luce contro la tratta. Immaginate che questa candela l'abbiamo data a ciascuna di voi. Consegno questa candela con un grande piacere perché veramente Caritas, Cotnet e la Vucvo sono due grandi partner e da quest'anno anche Voices of Faith si è unita a questa giornata e la sta promuovendo e la sta promuovendo e stanno partecipando non solo con la presenza ma anche in un modo più ampio. Quindi sta iniziando una nuova collaborazione. Quindi è una candela che accendiamo insieme con grande gioia. Allora io metterò il video, voi vi prendete questo tempo di silenzio ma voglio chiudere ringraziando l'Università Pontificia Gregoriana e non solo nella figura del decano padre Giacchino al quale ovviamente andrà l'impegno di accendere una luce contro la tratta ma anche al professor Peter La, docente di media che si nasconde ma che è stato il nostro ponte con l'Università e le tante persone che hanno lavorato a questi eventi che non si vedono ma noi non avremmo potuto fare tutto questo senza l'aiuto di tante persone, le volontari, la UISG, la USG, tantissime, è impossibile nominarle. Anche qui dell'Università Pontificia. Quindi chiudiamo con un grande grazie alla nostra traduttrice. Grazie.